Lo dovrai fare perché non hai scelta, lavori per me. Continui a cambiare le regole. Ti stai un po' ubriacando di potere, Richard. Glielo dici anche tu, Edith? Glielo spieghi? Ah no, io dicevo che non dovevamo fare nulla, lo sai che lo dicevo. Solo che adesso appoggio Ricci a una visione o fai le cose in grande o non le fai. Come sarebbe? È lui che sta rovinando l'America, non io. E come stare rovinando l'America? Come? La gente si è appena ripresa dal Watergate, dal Vietnam e tu vuoi tirare di nuovo merda sui politici? Perché vuoi diventare un pezzo grosso, vuoi la promozione? No, sto pensando in grande, chiaro, sarà fantastico. Useremo la videosorveglianza, una cosa accurata dalla testa ai piedi. Non lo farai come si deve perché hai una mentalità troppo governativa per essere piccolo e svelto. Io sono come un cazzo di Vietcon, capito? Chiaro? Appaio, scompaio, sono sempre stato lì e tu non te ne eri accorto, chiaro? Questa cazzo è l'arte di diventare qualcuno a cui la gente può affidare le sue speranze e i suoi sogni segreti.